Ciao a tutti sono Alessio Brad, Product Manager di Realme e sono contento di essere qui a presentare gli ultimi prodotti di Realme. Grazie a tutti per essere sintonizzati e per guardare il nostro live. Prima di tutto, visto la situazione che stiamo vivendo in tutto il mondo, spero che tutti noi siamo al sicuro. I risultati a livello global del brand sono veramente soddisfacenti e sono onorato di essere qui oggi a mostrarveli. Secondo Counterpoint Research Monthly Market Polls del mese di febbraio 2020, Realme sta costantemente scalando le classifiche, entrando nella top 7 con una quota di mercato del 2.7% e mantenendo i suoi precedenti risultati a livello globale. Realme sta dando prova di essere uno dei brand più utilizzati nel mondo. Stiamo crescendo molto, molto velocemente, ma ovviamente potreste chiedervi, e l'Europa? Bene, l'Europa rappresenta una priorità per Realme. Questo è il motivo per cui siamo già entrati in mercati europei, come Spagna, Italia, Francia, Germania, Polonia, e lanceremo in molti altri mercati. Per arrivare ai nostri obiettivi, il 5G è il primo step. Realme renderà il 5G popolare in questa nuova era, quella del 5G, appunto. Abbiamo recentemente lanciato, come saprete, il nostro primo smartphone flagship in Europa, Realme X50 Pro, che è anche il nostro secondo smartphone 5G che abbiamo lanciato a livello globale. E voglio anche rivelarvi che questo è solo l'inizio di questa nuova strategia sul 5G. Realme è giovane, appena nata, ma ha sempre cercato di spingersi oltre. Ed è per questo che siamo riusciti a diventare un brand trendseller, non solo in Europa, ma anche nel mondo. Vorreste chiederci, come? Bene, sicuramente grazie alla combinazione di tecnologia trendseller basata sul 5G, l'intelligenza artificiale, ottime prestazioni, fotocamere iper tecnologiche e un nuovo sistema operativo con un design trendseller che è unico nel nostro genere, trendy e stylish allo stesso tempo. Il design è molto importante per noi e siamo così felici perché Realme ha vinto per la prima volta il Red Dot Award 2020. Questi award sono come gli Oscar dell'Industry Design. Così Realme X2 Pro è diventato il prodotto premiato nella categoria Product Design 2020. Realme è focalizzata anche sulle generazioni più giovani ed è per questo che per la prima volta abbiamo istituito una partnership con StudentBeans per offrire a tutti gli studenti d'Europa dei benefit e degli sconti per l'acquisto dei nostri prodotti su Realme.com. Siamo veramente grati delle opinioni e delle review su Realme 6 di media e partners. Sono state fantastiche, come potete vedere. Siamo veramente felici delle opinioni positive e vogliamo continuare in questa direzione per rendere e creare una vita più tecnologica per le giovani generazioni grazie ai nostri prodotti. Quali sono le novità a questo punto? Oggi sarà una presentazione da Pro. Feature fantastiche, tecnologie sempre nuove ed elementi design unici. Sono proprio contento di presentarvi oggi Realme 6 Pro. Questa volta abbiamo deciso di lanciare Realme 6 Pro con un design tutto nuovo. Il design è ispirato dai fulmini e le saette che simboleggiano la nostra grande forza di accettare nuove sfide impossibili e anche la nostra velocità. Ecco a voi il nuovo e unico Realme 6 Pro, il design più elegante in questa fascia di prezzo, accattivante da ogni punto di vista. La parte posteriore del telefono è stata sottoposta al processo di stampa offset a gradiente. Questo processo è stato ripetuto centinaia di volte per ottenere il massimo dal design di Realme 6 Pro. Abbiamo anche ricoperto questo bellissimo modello con vetro Gorilla Glass 5. Ecco due nuovi colori per Realme 6 Pro, light on in blu che penetra attraverso le nuvole e light on in red che rappresenta la fantasia della passione. Davanti trovato un display da 6.6 pollici con punch hole e questo rende il rapporto schermo corpo di Realme 6 Pro pari al 90.6%. Ma non è tutto. Per proteggere il pannello abbiamo usato del vetro Gorilla Glass 5 nella parte posteriore e nella parte anteriore. Questa è anche la prima volta che offriamo 4 fotocamere sul retro e una doppia fotocamera sulla parte anteriore nella serie Pro, vendendo in Realme 6 Pro lo smartphone con 6 fotocamere più elegante del settore. Questo smartphone di Realme vanta potenti prestazioni nel comparto fotografico e la più grande novità inizia proprio con la doppia fotocamera selfie integrata nel display. Abbiamo combinato i vantaggi del punch hole display con l'idea della doppia fotocamera frontale per offrire una migliore esperienza fotografica e un elevato rapporto schermo cornice. Il modello monta una fotocamera principale con sensore Sony IMX471 da 16 megapixel con un'apertura ultra ampia e dimensioni di un singolo pixel che permette di scattare foto nitide e chiare anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre per la seconda fotocamera abbiamo scelto un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 105 gradi. Selezionando l'impostazione ultra grandangolare è possibile scattare foto con un campo visivo fino a 2.5 volte più ampio. Quindi non solo sarai in grado di scattare foto di te stesso ma anche il paesaggio circostante o anche selfie con più persone nello stesso frame. E ovviamente abbiamo anche alcune funzioni video aggiuntive come il video ultra grandangolare e il tanto amato video slow motion a 120 frames per second. Anch'esso ottimizzato al meglio. Sul retro il sensore principale è una fotocamera da 64 megapixel con prestazioni eccellenti caratterizzato da un'apertura di f1.8 che può scattare foto con dettagli super nitidi. Il Mi 6 Pro è dotato di un teleobiettivo che supporta lo zoom ottico 2x e uno zoom ibrido 20x che in realtà è il primo nel suo segmento di prezzo. La fotocamera da 8 megapixel a grandangolo da 119 gradi è anche molto utilizzata tra gli utenti e può rivelarsi molto utile soprattutto quando si riprendono paesaggi e scenari. Infine c'è un obiettivo macro che ti aiuta a catturare tutti i dettagli delle immagini. La combinazione di queste quattro fotocamere apre la strada a una nuova esperienza fotografica a lunghezza focale completa che include una varietà di funzioni. Il Mi 6 Pro ti consente anche di utilizzare lo zoom quando scatti e puoi effettivamente beneficiare di una foto ultra grandangolare a 1x, 2x, 5x e persino fino a 20x in modo da poter essere sempre alla distanza che desideri dai tuoi soggetti. Oltre all'aggiornamento hardware stiamo apportando altre funzioni a Mi 6 Pro. Vorrei adesso parlare del Nitescape 3.0. Il nuovissimo Nitescape 3.0 ha due nuove funzionalità. La prima è la modalità treppiede. Con la modalità treppiede otteniamo fino a 50 secondi di esposizione super lunga e si possono scattare foto notturne più professionali. Diamo un'occhiata ad alcune foto di esempio. Mi 6 Pro è stato ottimizzato e scatta molto bene con il panorama notturno appena aggiornato, con meno rumore al buio e un'immagine più chiara in generale. La seconda funzione aggiornata della modalità Nitescape è la modalità ultra Nitescape su Mi 6 Pro che ora vedremo. In situazioni di scarsa luminosità potrà realizzare scatti niditi e fotografie brillanti. Vediamo l'immagine di esempio. Questo livello di luminosità è come vivere la luce diurna durante la notte. Questo permette a Mi 6 Pro un'eccellente capacità di ripresa delle scene notturne. Allo stesso tempo abbiamo anche aggiornato la modalità esperto che non supporta più solo fino a 9 tipi di regolazione delle specifiche. Ma una volta impostata si potrà anche produrre direttamente foto in formato RAW con una capacità di post-produzione più ampia. In termini di funzioni video, Mi 6 Pro supporta la doppia stabilizzazione video UIS. Sia che si utilizza la fotocamera anteriore per i video selfie o quella posteriore per le riprese video, in entrambi i casi si possono ottenere video super stabili. Ecco un video di esempio girato con Realme 6 Pro. Anche se ti muoio per fare la ripresa puoi vedere il risultato. Realme 6 Pro ha anche una varietà di funzioni come il video ultra grandangolare e il video bokeh in tempo reale. Sia per la fotocamera posteriore che per quella anteriore, Realme 6 offre delle funzioni hardware e software dei flagship. Quando si tratta di fotocamere con Pro Selfie, Fotocamera Pro e Video Pro riusciamo a rendere una delle esperienze fotografiche più professionali e più complete di sempre in questo segmento di prezzo. Ora parliamo delle performance che sono una grande sorpresa. Realme 6 Pro è il primo smartphone con il chipset Snapdragon 720G. Come l'ultimo chipset della serie Qualcomm 7, adotta una tecnologia avanzata a 8nm. rispetto alla generazione precedente, ha aumentato le prestazioni della CPU del 10%, le prestazioni della GPU del 75% e 220% sulle prestazioni AI, il che è più che sorprendente. Attraverso questo confronto del punteggio AnTuTu possiamo vedere che le prestazioni del 720G sono migliori di altre in questo segmento di prezzo. Abbiamo anche una news eccitante per i nostri videogamers. Realme è ora il partner di gioco ufficiale di Arena of Valor, che è uno dei giochi più competitivi al mondo. Con tecnologia del processore avanzata e aggiornata e con sostanziali miglioramenti delle prestazioni, Realme 6 Pro può offrire delle esperienze di gioco e intrattenimento di livello Pro anche quando si gioca, senza interruzioni e come mai prima d'ora. In termini di durata della batteria, Realme 6 Pro è inoltre dotato di una batteria da 4300 mAh, che si ricarica fino al 100% in appena 55 minuti. Una vera prestazione di ricarica di livello Pro. Naturalmente ci sono anche altri dettagli che vedremo ora. Prima di tutto, Realme 6 Pro viene fornito con un altoparlante ultralineare. Rispetto alla generazione precedente, il volume è più alto e la qualità del suono è migliore. Realme 6 Pro supporta anche la certificazione Dolby Atmos Hi-Res. Realme 6 Pro è inoltre dotato della tecnologia NFC multifunzione. In questo modo potrai acquistare nei negozi e pagare direttamente con il tuo smartphone. Ora guardiamo il video ufficiale del prodotto. Per ora che abbiamo parlato delle prestazioni in termini fotografici e della CPU, vorrei concentrarmi sulla qualità del design Realme. In realtà sul 6 Pro abbiamo apportato un nuovo design che ne migliora la qualità. Ci sono fondamentalmente due caratteristiche principali che rendono Realme 6 Pro sardinamente più resistente anche nel tempo. Prima di tutto, sia sul nostro ultimo Realme 6 introdotto che su Realme 6 Pro abbiamo apportato un design che è resistente agli schizzi d'acqua. E abbiamo rafforzato gli angoli di entrambi i telefoni, che hanno meno probabilità di rompersi quando vengono lasciati cadere. Allo stesso tempo abbiamo anche uno dei test di qualità più rigorosi del settore, tra cui test di caduta effettuato 20.000 volte, test della spina USB per 10.000 volte, test relativo ai bottoni dello smartphone per 100.000 volte e test del lettore di impronta laterale, il fingerprint effettuato per 300.000 volte. Tutti questi controlli di qualità rendono il Realme 6 Pro lo smartphone che dura di più nel tempo in questo segmento di prezzo. Ora diamo un'occhiata panoramica alle funzionalità del Realme 6 Pro nonché al suo prezzo e alla sua disponibilità. non volevamo di certo lasciare il Realme 6 Pro fuori da questa presentazione. Come sapete abbiamo lanciato di recente il Realme 6 Pro in Europa, che in realtà è il nostro primo smartphone 5G in Europa e il nostro secondo smartphone 5G a livello mondiale. il Realme 6 Pro è disponibile in due bellissimi colori, uno è il moss green e l'altro è il rust red. entrambi meravigliosi. Questo è il suo inizio dell'era del 5G. Il nostro Realme 6 Pro sarà disponibile presto e volevamo ricordare a tutti le sue funzionalità. Con le grandi prestazioni del processore Snapdragon 865, il Realme X50 Pro è all'avanguardia nell'era del 5G grazie alla velocità di rete e alle prestazioni più elevate. La connessione di Realme X50 Pro 5G è 10 volte più veloce del 4G. Ci vogliono meno di 10 secondi per scaricare un film HD e per lo streaming live dei contenuti in video 4K sarà come se il film fosse archiviato localmente sul tuo dispositivo. Allo stesso tempo, Realme X50 Pro copre tutte le principali bande 5G del mondo, tra cui N1, N41, N78 e N79. Al fine di garantire la massima velocità di trasmissione, il Realme X50 Pro offre anche il Wi-Fi 6. La velocità di trasmissione teorica del Wi-Fi 6 può raggiungere 9.6 GB per second, che equivale ad una velocità di download di 1.2 GB per second, che è il 40% più veloce della precedente generazione Wi-Fi. In termini di RAM, il Realme X50 Pro è dotato dell'ultima memoria LPDDR5. Sicuramente questo nuovo tipo di memoria avrà un impatto enorme sulle prestazioni e sulle funzionalità dei dispositivi elettronici portati di prossima generazione. Lo smartphone è anche dotato della ricarica rapida SuperDart da 65W. Realme X50 Pro è uno degli smartphone più veloci e che si ricarica il più velocemente al mondo. Ti passeranno 35 minuti per ricaricare la batteria al 100%. E grazie alla ricarica SuperDart da 65W, caricando solo 3 minuti avrai abbastanza energia per guardare un film da 100 minuti o chiamare per 4 ore oppure ascoltare 70 canzoni. Per quanto riguarda il display di Realme X50 Pro, c'è da dire che la frequenza di aggiornamento è a 90Hz, il che è ottimo. Ha anche una cornice super sottile e un layout della fotocamera con fuori di perforazione per un rapporto schermo-corpo che raggiunge il 92%. Eccezionale! Il sensore di impronte digitali è anche integrato con lo schermo OLED. Realme X50 Pro adotta il modulo di impronte digitali di nuova generazione Goodix. Adatto per schermi sensibili alla luce, questo nuovo modello integra anche dei filtri di sicurezza. Inoltre Realme X50 Pro è dotato di una proiezione dello schermo ad alta definizione e di un core potente, veloce e sicuro. E soprattutto si sblocca in appena 0.27 secondi. Diamo ora un'occhiata alla configurazione delle telecamere frontali di Realme X50 Pro. Abbiamo scelto una doppia fotocamera. La principale è una fotocamera da 32 megapixel con grand'angolo Sony da 80 gradi IMX616. La secondaria è da 8 megapixel con super grand'angolo a 105 gradi. L'obiettivo è ora 2.5 volte più ampio di prima. Abbiamo utilizzato la più recente tecnologia di precisione per ridurre l'apertura a 4.41 millilitri, il che potrebbe essere la più piccola sul mercato nella categoria doppia fotocamera frontale grand'angolare con punch hole. Diamo ora un'occhiata alla configurazione delle telecamere posteriori di Realme X50 Pro. Abbiamo apportato numerosi aggiornamenti per le nostre 4 fotocamere. Quella principale è ancora l'affidabile GW1 da 64 milioni di pixel, ma la fotocamera ultra grand'angolare viene sostituita con una nuova fotocamera da 119 gradi con campo più ampio e funzione di ripresa macro integrata. Integrando la lente macro, siamo stati in grado di inserire due fotocamere focali fino a 12 milioni di pixel, con zoom 2x e una capacità focale lunga e, infine, una fotocamera per ritratti artistici. La combinazione di queste 4 fotocamere consente una copertura a lunghezza focale ampia e una varietà di funzioni e caratteristiche. Realme X50 Pro è inoltre dotato del nuovo zoom ottico ibrido 5x e supporta uno zoom ibrido fino a 20x, in modo da poter effettivamente scattare foto da più angolazioni con più coperture e lunghezze focali ampie, coprendo facilmente soggetti distanti o ravvicinati. Diamo un'occhiata al video. Realme X50 Pro, speed of the future. Realme smartphone, dare to leap. Diamo ora un'occhiata al riepilogo delle funzionalità del nostro Realme X50 Pro, nonché i prezzi e le disponibilità. Grazie ancora per il tempo che avete trascorso con noi oggi e desidero davvero che tutti siano al sicuro e che rimangano protetti. Supereremo insieme questi momenti difficili, vedrete. Grazie ancora, ciao! Ciao! Grazie a tutti!